Ciao ragazzi, oggi è arrivato da Cameleo Italia, è arrivato il pacchetto oggi per farvi vedere ho ordinato il giovedì pomeriggio ed oggi è arrivato proprio dieci minuti fa allora ho ordinato il cover per fare builder make up, ho ordinato questo il levato l'avevo finito e come densità già si vede che c'è una differenza che non cola adesso dovrò provarlo anche sulle altre unghiette perché devo rifarmele come densità vedete è cremoso però non cola e questo si va si va benissimo a stendere perché non questo non cola nella cuticola che deve fare allungamenti come i miei ma anche per fare quattro dita alla volta per fare più veloce va benissimo ragazzi avete detto che il make up beige era troppo fluido non lo so il video sembrando male però tanto ho preso questo è rosè non è beige però il beige a me non mi sta bene ne ho un altro di più chiaro ma è troppo liquido e non mi piace per me e poi mi hanno fatto un po' di regalini perché siamo anche verso Halloween ho fatto degli sticker un po' simpatici vediamo se qualcuno le piace perché purtroppo non si sa non si sa una lima spongiboo un buffer molto buono 100-180 e una delle lime nuove da provare sono argentate adesso che questa era una 100-180 adesso la proverò anche se io mi trovo meglio con queste lime qua sono mezzaluna praticamente con questo adesso devo che provare vi raccomando che la tenuta è tutto e vedremo in seguito grazie ciao ciao